Ciao a tutti da Diego di Tecnophone.it quest'oggi con iPhone 6 Plus andiamo a vedere tutte le principali novità di iOS 8 il nuovo aggiornamento che è disponibile per tutti gli iPhone a partire dal 4S in poi iPad e iPhone una delle novità principali è il nuovo editor di foto andiamo ad aprire ad esempio un'immagine apriamo questa immagine premendo il tasto modifica in alto a destra abbiamo diverse funzioni abbiamo la possibilità di raddrizzare la foto come vedete possiamo storgerla in automatico già l'applicazione ce la raddrizza secondo lui possiamo poi scegliere di ridimensionarla ritagliandola mettendola magari facendo un quadrato oppure usando i vari formati e poi possiamo anche decidere di rimetterla in automatico possiamo chiaramente ruotarla e poi intanto facciamo un attimo annulla ritorniamo al menu modifica se invece vogliamo fidarci diciamo dell'iPhone e dare una specie di regolazione automatica all'immagine basterà premere in alto a destra vedete in questo caso aumenta un pochino la luminosità ritocca la foto e la rende diciamo decisamente più interessante se invece vogliamo applicare dei filtri basterà premere quei tre pallini che sono al centro proprio sopra il tasto Ohm in questo caso possiamo applicare diversi effetti mettiamo nessuno e facciamo fine se invece tutto questo non ci piace e vogliamo proprio andare giù pesante con la modifica abbiamo la possibilità di personalizzare la luce vedete con vari step oppure andare proprio agire sui punti di luce l'esposizione contrasto punto di nero come vedete le opzioni sono davvero tantissime diciamo è un editor di foto decisamente avanzato che sicuramente farà felice chi ama smanecchiare diciamo con le foto e tutto il resto sempre l'applicazione foto diciamo è stata modificata non c'è più il mio streaming foto non c'è più l'album di foto condivise con iCloud abbiamo la possibilità di vedere le immagini in album diviso in raccolte momenti con la possibilità di cercarle in modo molto rapido oppure l'album dove ci mostra tutte le cartelle con i video divisi magari in video moviola, timelapse eccetera 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 questa era l'applicazione foto proseguiamo un'altra diciamo novità che è stata introdotta è la possibilità di inserire dei widget nella barra delle notifiche questa barra delle notifiche permette come vedete di inserire tramite l'applicazione launcher che ve la consiglio assolutamente ci permette di inserire delle applicazioni come in questo caso finalmente è possibile entrare nel menu delle impostazioni magari abbassando la tendina e mettere impostazioni qui possiamo veramente inserire quello che vogliamo al momento le applicazioni sono poche però un'altra funzione che è possibile sempre fare dalla barra delle notifiche ad esempio riceviamo un messaggio tramite l'applicazione messaggi abbassiamo la menu tendina ci viene scritto qua e possiamo rispondere direttamente senza aprire l'applicazione questa diciamo è una novità molto importante un'altra novità molto importante che al momento non è ancora supportata da nessuno o meno da pochissime applicazioni è la possibilità di condividere l'immagine con altre applicazioni vedete solitamente le condivide con messaggi mail, twitter, facebook, flickr se noi premiamo altro possiamo scegliere se abilitare o disabilitare flickr che ad esempio io non lo uso e poi col tempo appariranno applicazioni magari come whatsapp, hangout eccetera 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 e in questo modo diciamo non servirà chiudere, aprire l'applicazione andare a prendere la foto diciamo una cosa abbastanza ridicola che su android esiste da una vita la possibilità di condividere con qualsiasi funzione un'altra novità è incredibile ma vero la possibilità di cambiare la tastiera anche questo su android esiste da una vita su ios è arrivato con ios 8 ed è possibile cambiare la tastiera ovvero utilizzare una tastiera scaricata da app store come si fa? il tutto è davvero molto semplice semplicissimo andiamo su tastiera e andremo su aggiungi nuova tastiera in questo caso io l'ho già aggiunta se io la rimetto mi riaggiunge quella originale poi cosa dobbiamo fare? per fare in modo che non ci appaglia magari prima la tastiera emoji o d'altro andiamo a fare modifica e come vedete la possiamo spostare in questo caso mettiamo prima SwiftKey e sotto emoji e come vedete io ho eliminato la tastiera originale della Apple in questo modo noi avremo la tastiera SwiftKey tastiera che vi consiglio perché permette di scrivere con lo swipe lo swipe è in modo molto rapido di scrivere ma soprattutto con questo bel padellone torna molto meglio scrivere con una mano un'altra novità è la possibilità di utilizzare in famiglia in famiglia che cos'è? non è un programma televisivo della televisione che fa l'Alda Deusanio si chiami così comunque è la possibilità di condividere il nostro account iTunes ovvero tutti i nostri acquisti che siano applicazioni, che siano musica ed altro con i membri della nostra famiglia ovvero mia moglie gli ho dato l'iPhone 5S lei può scaricare tutte le applicazioni che ho comprato io ad esempio io ho Navigon originale lei lo può scaricare senza ricomprarlo questo è davvero una cosa fantastica soprattutto anche perché magari se avete un figlio e volete sapere dov'è attivate magari senza dirglielo la localizzazione del suo dispositivo e sapete sempre dove sta chiaramente potete utilizzare anche dei limiti per le applicazioni ovvero vietarli magari di scaricare cose vietate migliori di 18 anni e queste cose mi raccomando non andate a controllare lo smartphone della moglie io infatti ce l'ho disattivato per l'amore di io non si sa mai un'altra novità è iCloud iCloud si è trasformato ed è diventato iCloud Drive ovvero una funzione simile a Dropbox o meglio uguale identica alla funzione che ha Dropbox perché ci possiamo caricare dentro i nostri file ed è diventato molto più vantaggioso dal punto di vista dei money perché con un euro al mese ci dà 20 gigabyte di spazio e lo possiamo utilizzare come vogliamo è presente anche la funzione continuity che ovvero se noi abbiamo anche un iPad oppure abbiamo un Mac aggiornato con il nuovo sistema operativo che deve ancora uscire quando ci suona il telefono ci suona anche sull'iPad e ci suona anche sul Mac praticamente impazziamo perché possiamo rispondere da qualsiasi dispositivo chiaramente il tutto è disattivabile perché magari poi dopo una persona può anche un attimino sclerare un'altra novità che è stata introdotta è l'App Salute App Salute che ci permette di utilizzare un quadro dati che va dal nostro movimento a tutto quanto a tutte le nostre funzioni diciamo vitali parametri vitali che poi verranno sfruttate col tempo dalle applicazioni per il momento non ce n'è di applicazioni non viene sfruttato da nessuno però poi piano piano arriveranno le applicazioni e spero anche aggiorni Fitbit che andrà ad integrarsi con HealthKit che permetterà poi magari di vedere quanti passi faccio al giorno eccetera 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 chiaramente questa può utilizzare anche il coprocessore di movimento che ha l'iPhone che ci permette di essere utilizzato con contapassi ma al momento chiaramente il momento in cui vi sto parlando non è ancora stato attivato diciamo che queste sono le funzioni principali ho cercato di andare veloce giusto per farvi vedere più cose possibile un'altra novità è Safari Safari che ha questo fantastico visualizzazione con queste schede che ci mostra anche le pagine aperte sull'iPad che magari su un iPad che abbiamo collegato con il nostro account con il nostro Apple ID una cosa che non è ancora stata risolta che penso che non risolveranno mai è il ricaricamento della pagina ovvero noi abbiamo tante schede aperte se andiamo a fare il salto da una scheda all'altra lui la ricaricherà da capo e questo ahimè è parecchio fastidioso per il momento è tutto questa era un pochino la panoramica mi sono dimenticato come al solito mi viene sempre in mente alla fine di farvi vedere una cosa veramente orribile ovvero le applicazioni non ottimizzate Whatsapp ad esempio è per non vedenti come vedete è enorme sono in attesa di un aggiornamento chissà quanto ci metteranno ad aggiornarlo stesso discorso vale per Hangout stesso discorso vale per Facebook che ha un bug ogni tanto viene fuori lo schermo nero è tutto molto grosso non è vedete come in questo caso poi dopo parte l'applicazione diciamo che sarà solo un po' presa con le molle sviluppatori nell'aggiornare le applicazioni applicazioni che su questo iPhone 6 Plus come ad esempio l'applicazione messaggi hanno la possibilità di ruotare e di mostrare come vedete i dettagli del nostro messaggio questo è tutto iOS 8 è disponibile come ho detto all'inizio per iPhone 6 Plus iPhone 6, iPhone 5S iPhone 5 e iPhone 4S iPhone, iPod Touch e Apple iPad Air e via dicendo e che dire vi saluto al prossimo video ciao da Diego ciao 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 ciao